Come tutti conosciamo in America, il 4th di Julio è un valore molto speciale, quindi siamo qui invitando 2500 dei nostri migliori amici da Italia, qui oggi a Villa Taverna, per cercare il 239th Anniversary del signore della Declarazione dell'Indipendenza, che ha iniziato tutto il spazio della democrazia, che è ora molto importante nel mondo. Questa sera ci troviamo in questa magnifica cornice di Villa Taverna. Grazie alla volontà dell'Ambasciatore e della moglie, siamo stati contattati noi come Equ Evento, la nostra associazione che recupera il cibo dagli eventi e lo ridistribuisce agli anticaritatevoli, perfettamente in linea con i temi di Expo 2015, Nutrire il pianeta, e anche questa sera, in occasione di questa bellissima festa, recupereremo tutto il cibo che è stato prodotto in eccesso e che non è stato consumato dagli ospiti e che, invece di diventare spreco, diventerà risorsa, perché lo recupereremo e lo distribuiremo in tempo reale a degli anticaritatevoli, a persone che ne hanno davvero bisogno. tutti hanno un buon tempo, c'è grande musica, musica americana, e la cibo, e tutti gli altri che vogliono incontrare, e l'Italiano governo, sembra di essere qui oggi. Quindi, abbiamo un buon 4th di Juli. Grazie a tutti.